E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro quotidiano update, il nostro Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna ogni lunedì e venerdì per quello che è le news della notte, per quello che è il movimento della notte e ogni volta lo dico, serve proprio per questo, serve per arrivare a voi velocemente, Soprattutto quando succede qualcosa di importante nel mercato, quando ci sono dei movimenti importanti nella notte, movimenti che si sono verificati questa notte, io vi invito davvero sempre a guardare il video, soprattutto il serale anche perché parliamo con più dati alla mano ok? Il Morning è un appuntamento molto interessante, molto importante secondo me perché dà un entry point ma ricordatevi sempre di completare proprio per questo motivo qui perché ieri avevamo messi in guardia riguardo al movimento correttivo, anche abbastanza forte e quindi chi l'ha visto insomma penso che non sia in panico e abbia capito un po' cosa sta accadendo. Comunque sia vedremo un po' insieme questa mattina il tutto, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale con clic e sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e ovviamente date un'occhiata ai link che trovate qui sotto in descrizione. Allora partiamo con questa news qui, poi dopo mi concentrerò di più sui grafici questa mattina per ovvi motivi, però era un po' quello che era accaduto ieri, cioè avevamo anticipato il Morning with Crypto di ieri appunto questa notizia di Biden che era uscito un leak dell'ordine che sarebbe andato a firmare, che è un ordine positivo che porta più consapevolezza in un mercato andando comunque a focalizzare quello che sono le crypto all'interno di un contesto economico importante per il paese, comunque va a valorizzarla insomma, non va a dire questa roba non so cosa sia eccetera eccetera, ma cerca di trovare un ambiente di lavoro che non sia eccessivamente restrittivo ma che permetta l'innovazione, questo è fondamentale, abbiamo visto anche come aveva reagito poi il prezzo, aveva sfruttato anche questa cosa per poter fare il suo AIRAI e quindi andare a cercare l'inversione. Cosa è successo nella notte? Siamo andati a correggere, siamo andati a correggere in maniera abbastanza forte, vediamo prima, ve lo faccio vedere da qui, da Tani, e vi consiglio di utilizzare Tani, trovate ovviamente il RF link in descrizione con tutti i riferimenti per scaricare l'applicazione ufficiale, quindi vi consiglio di usare anche quel RF che state qui sotto, proprio perché vi dà anche un po' l'idea, guardate qui anche degli high value node e quindi di tutto quello che è anche una licenza premium per chi non la classica su trading view, vi dà la possibilità di farlo in maniera gratis e soprattutto vi dà anche l'idea di vedere, la possibilità scusate di vedere i principali exchange, potete aggiungerne anche altri, a quanto è quotato in questo momento Bitcoin, potete vedere anche le discrepanze, un po' per tutte le coin, ok, molto interessante, in più potete fare i trade direttamente dal portale, sincronizzando le api dei vostri exchange che potete utilizzare con la Tani, quindi anche quella cosa lì è molto interessante, vi consiglio di vederlo da lì. Per quello che riguarda i gainers delle 24 ore, poi guardiamo le chart nel dettaglio, abbiamo Icon che fa un più 46, ok, abbiamo Waves che continua e fa un più 33 con un più 63 settimanale, occhio sempre a questi nomi qui, che appena vanno in FOMO poi diventa complessa la gestione, Torchain un più 13, Celsius un più 2, Near Protocol un più 2, Terra comunque si mantiene su 0.75, Hardware 0.4 e poi abbiamo le stable, ok? Poi abbiamo le stable, questo perché l'aggiunta di ieri nelle 24 ore si è corretta molto e vediamo appunto perdere Monero, un meno 14, ma che trovavamo anche tra i gainers di ieri, Phantom un meno 10, Phantom in molte difficoltà per Phantom, dopo tutto quello che è successo, anche se sono degli idea che non cambi molto la situazione, però vedete come le persone chiave a volte fanno disastri, The Graph un meno 10, Harmony un meno 8, Helium un meno 8, Secret un meno 8, siamo andati a correggere, tutti sui meno 7, meno 8, lo vedete molto bene, proprio perché Bitcoin, lo vedevamo dalla chart di Attani, è andato in una correzione molto accentuata, ok? Questa correzione in realtà è partita dalle ore 2, perché fino alle 2 siamo andati a fare una situazione di lateralità e abbiamo completato una BART, anche qui sembra sempre di COBART, ma purtroppo sono figure che si verificano spesso anche qui nel settore crypto, soprattutto su pump molto forti iniziali, ovviamente non è ancora detto, perché bisogna aspettare i dati, per cui vi consiglio sempre di utilizzare l'appuntamento serale come occasione migliore di confronto e di analisi, perché abbiamo più dati di esposizione, perché ragionare in questa situazione a caldo, poi lo vedremo sul daily, lo vedete che è un po' così così da dire, però ci sta comunque ad analizzare il movimento, abbiamo completato una BART e soprattutto abbiamo avuto questi volumi, che vi dicevo alle 2, pausa di volumi e altri due volumi molto forti, Berish, dalle 5 e alle 6, ok? che si sono esauriti in questo momento e che hanno decretato almeno la prima piccola shadow che ci ha rispedito a 39,2 circa, toccando i 38,8, perché vedete queste sono candele molto piene che non ci hanno dato molto respiro, un po' come abbiamo avuto i pump di ieri, e quindi siamo ritornati nella nostra parte bassa, non eccessivamente, insomma in questo range di prezzo che va tra i 39,5 e i 37,5, ci troviamo insomma sui 39,140 in questo momento, attenzione anche qui perché vorrei vedere il movimento poi a livello daily con voi, perché così come ho impostato questa roba qui è bruttissima perché è un engulfing Berish, ok? ovviamente abbiamo fatto un break ed abbiamo, ci siamo stati rispediti al mittente, ok? però vediamo perché se riuscissimo a chiudere, vi ripeto, al di sopra dei 40.000 dollari, quindi siamo vicini comunque, se 40.000 dollari o così andrebbe a testimoniare comunque dei boost che hanno assorbito bene questo dump e che quindi possono reagire in maniera abbastanza potente. Quello che è anomalo, tra virgolette, vedere e che ci deve fare anche un po' pensare è il fatto che la dominance di fronte a questa correzione di bitcoin in realtà stia andando a correggere anch'essa dell'1,27% di un mezzo punto percentuale, questo perché a tanta alcoin, non tutto chiaramente ma in proporzione, stanno andando a soffrire meno, stanno andando a soffrire meno di bitcoin e questo ci deve far ragionare, anche l'1 stessa che abbiamo preso come ieri come caso nella formazione che sta facendo adesso non è per niente male, cioè questa qui potenzialmente è una bull flag con rottura potentissima, non sono consigli di investimento, non sono consigli finanziari, ascoltate bene le mie parole, dico potenzialmente, ok? Per come è strutturata questo ritracciamento salutare, ok? Con le medie mobili che stanno arrivando, quindi qui, sugli 87, 86 si può andare eventualmente o come dicevo ieri sera per i più aggressivi proprio qua, ok? L'entry era qui, ok? Sui 92, 93, ok? Proprio per sfruttare il primo supportino per l'1. Quindi, questo per dirvi cosa? Per dirvi che la dominance che corregge è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione perché probabilmente il dump può anche non essere un dump dettato dalla paura folle, ok? Ma un dump più tecnico, ok? Questo vale anche per la total che fa 1.71 trillions e che quindi ci riporta un po' nel range basso della market cap, scusatemi. Detto questo, ragazzi, mi fermo perché quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Rimaniamo aggiornati sia qui su Instagram, su Twitter, mi raccomando, seguitemi perché tweeto veramente tanto e penso sia un metodo utile per arrivare a voi velocemente. Fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate nei commenti e ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale col click sulla campanellina prima di essere sempre aggiornati. Noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti!